Rieccoci insieme con il Biancherosso TV Sport. Abbiamo una sedia vuota perché aspettavamo il professor Enzo Lattanzio che ci avrebbe dato i dettagli della race for the cure, la gara podistica, ma non solo la gara podistica perché ci sono altre iniziative collaterali, fra cui anche un'iniziativa di vela, per la raccolta fondi per la lotta per il tumore al seno. Dovremmo avere le immagini perché c'è stata la conferenza stampa di questa mattina, però noi ricordiamo che domenica per appunto si corre, si gareggi in assoluto a Bari per la race for the cure, mi raccomando aderite perché la finalità è estremamente nobile, magari prima della chiusura della trasmissione faremo vedere qualche immagine. Intanto credo che ci sia un amico in linea, pronto? Buonasera Enzo, saluto anche il professore. Enzo, io non sarei così sicuro della vittoria domani per carità, non perché io non ti si bario, non sia contento, però voglio dire che dobbiamo considerare sempre, come diceva Ventura, chi siamo e da dove veniamo. Allora veniamo da una situazione che è andata incancrenendosi sempre di più e inutile spendere più parole. In più abbiamo una squadra, passatemi questo termine, assolutamente mediocre, con un allenatore modesto, un allenatore che in più riprese ha dimostrato di non saper leggere la partita, di non saper fare le sostituzioni nei momenti opportuni. Un esempio lampante di questo è che al di là della penuria di attaccanti che abbiamo, quei pochi non sono messi in campo in maniera tale da essere efficaci ed efficienti. Per cui domani sono aperto e pronto a qualsiasi tipo di risultato. Una previsione, se mi è consentito, su quello che sarà il futuro del Bari Calcio. Io credo che il Bari sia veramente attaccato ad una spina e credo che andrà via via consumandosi, anche perché non c'è né volontà di tenerlo in vita decentemente né tantomeno di fare una programmazione. Grazie, grazie per il tuo intervento. Il nostro amico dice che siamo sicuri che domani il Bari vincerà contro il Gubbio, vede dei limiti nella squadra accentuati. E poi però ha parlato anche del futuro, ha detto che lui vede il Bari come qualcosa attaccato quasi con una spina alla vita praticamente, cioè non vede una squadra che può avere anche nell'immediato un'ambizione, sta soltanto attaccato con una spina ma che non ha né entusiasmo alle spalle né ambizione né voglia di riemergere. Come vedi dal tuo punto di vista Gianni, con molta obiettività, perché sei un saggio anche, il futuro immediato del Bari? Ma vedi, proprio nella rivista che noi da 16 anni curiamo e sottolineo gratuitamente, facciamo due pagine con l'interrogativa, la domanda, quale futuro per il Bari? Proprio questo. E facciamo intervenire tutti i maggiori vertici delle istituzioni, cioè i vertici delle maggiori istituzioni, il sindaco, la regione, la provincia, l'università, la camera di commercio, la fiera di Elevante, i giornali quotidiano di Bari. Ebbene, un po' tutti sono un po' scettici su questo futuro, è chiaro che bisogna cominciare a capire che cosa c'è dentro l'uovo che è il Bari e quello che si può fare semmai con non una frittata ma qualcosa di utile. Tu hai sempre detto il Bari non fallirà. Mai scomparirà, non scomparirà, non scomparirà. E io sono certo che anche i matarrese non se ne potranno uscire a testa bassa ma a testa alta e sono convinto che riusciranno a mantenere il Bari fino a quando potranno dignitosamente. A meno questo lo spero. Però quest'anno non è stato dignitoso prendere tante penalizzazioni. Ma tutto sommato, se non ci fossero stati gli interventi attraverso, perché ora c'è anche un problema, bisognerebbe vedere se l'amministrazione finanziaria accetta e consente anche la spalmatura dei cinque anni. Non è ancora certo questo. Non è ancora certo, anche perché c'erano delle situazioni pregresse e noi dovremmo dire grazie, fra virgolette grazie per dire il contrario, a chi ci ha postato in queste... La gente dice ma noi abbiamo avuto i risultati, noi ci siamo divertiti, noi siamo andati in 12 mila a Roma. Sì ma tutto questo, a prescindere da quel che è stato il divertimento della folla, della gente, dei tifosi, ha portato a una situazione debitoria, perché non è possibile... Però io non ci credo già, io non ci credo, fino a un certo punto ci credo, però bisogna saper mediare tra il raggiungimento del risultato... Saranno stati responsabili anche quelli della proprietà, indubbiamente, non è che uno lo fa da solo. Ciao Enzo, sono Beppe Biondi, saluti al dottor Antonucci. Allora io concordo con il professore Antonucci perché qui c'è troppa magnanimità verso alcuni delinquenti, perché se fosse questo un paese serio, una nazione seria, dopo tutti questi episodi, quei parrucconi che stanno alla Lega avrebbero fatto già delle regole ferree, perché quando uno viene coinvolto in un calcio scommesso e va radiato, tutto questo io non l'ho visto. Allora ti dico questo Enzo, che tra un po' vedrai che tutto questo si ripeterà anche nel prossimo campionato, per la mancanza della ferreità delle regole. E oltretutto, aggiungo un'altra cosa, nel Totonero, negli anni Ottanta, la polizia e la guardia di finanza entrarono in campo e arrestarono i calciatori. Tutto questo non si è mai visto. Grazie per il tuo intervento Beppe. Dobbiamo sfogliare però le pagine. Che cosa ci hai portato oggi? Stiamo dicendo ha portato, ha portato, ha portato. La mia venuta qui è soltanto per dare un poco di conoscenze, soprattutto ai giovani. Per esempio, dopo quello che faremo ora, e che diremo ora, ti voglio fare un intervento su quello che ieri è stata la trasmissione tua con il bravo Monteleone a proposito dello stadio. Siccome sono passati 22 anni dalla inaugurazione del San Nicola, quelli che oggi hanno 30 anni, allora avevano 6-7 anni, per cui non sanno i fatti. Lo spiegheremo dopo che facciamo e ricordiamo queste tre ricorrenze. Cominciamo dalla prima. Cominciamo con la prima ricorrenza. Dopo lo vediamo lo stadio. La prima ricorrenza è Gianni Seghedoni. Gianni Seghedoni ha compiuto 80 anni. Ha compiuto 80 anni. Col Bari 198 partite. Questa è la prima volta che l'abbiamo vista da avversario giocava nel Prato nelle finali di quarta serie. Che ruolo era Seghedoni? Era venuto a Bari come mediano di spinta. Poi dopo, prima Capocasale e poi Alassio, lo trasformarono in centrale. Però un centrale particolare perché davanti a lui giocava Cappa, che è un po' come il Verratti del Pescara di oggi. E qui lo vediamo insieme. Ci sono due episodi che ti voglio raccontare di Seghedoni. La prima è che quando lo vendemmo alla Lazio, lui fece un gol al Napoli, 1-0, così di violenza che sfondò la rete. L'arbitro, rigato di Mestre, non gli convalidò il gol e finì 0-0. Per quel punto, allora erano due punti per la vittoria, per quel punto che non fu concesso, la Lazio non andò in Serie A. Per un punto. E poi c'è stata la scena continua che si aveva fra lui e Raul Conti e Mazzoni. Loro si ritiravano, come dire, prima della partita. Il sabato andavano all'hotel delle Nazioni, là si radunava la squadra, dopo il cinematografico. Qui è quando è venuto a Bari da allenatore. De Palo, Nitti e il povero Peppino Cusmane. E qui è in panchina che stava nel Bari, che poi vende partite ha fatto. E qui ancora in panchina con Albanese, con Frappampina, con Mariani e con Bertonelli. E qui praticamente quando è andato via, che poi ha allenato tante altre squadre. Ha cominciato con il Lecce e ha finito con il Sassuolo. Ma volevo raccontarti… E' stato anche a Taranto, Seghedoni? Ah, due volte è stato a Taranto e ebbe la più grande soddisfazione di battere con il Taranto per 3 a 0 il grande Milan, che era retrocesso per penalità. Allora, volevo dirti che di Seghedoni è memorabile questa scena, sceneggiata quasi del sabato. Scommettevano il Chinotto Neri. Tu sai che era il Chinotto Neri? Non lo sai? È il giovane, lo dico. Una specie di Coca Cola, uso italiano. Se la giocavano a questa maniera. Conte e Mazzoni dicevano a loro, noi davanti al monumento di Diaz a lungomare, dal monumento di Diaz fino all'albergo delle Nazioni, tu devi correre indietro, no? Non in avanti. Noi invece partiremo davanti all'angolo, allo svincolo del Barion. E vediamo chi che arriva prima all'albergo delle Nazioni. Arrivavano sempre Raul Conte e Mazzoni. E lui pagava. E non se ne accorgiava. Ed è stata una condizione, non riuscita mai a vincere. Perché è inutile che vogliamo dire. Quelli scappavano a tutta velocità e non ce la facevano. E lui pagava. E questo è stato memorabile. Pubblicità, pubblicità. Poi dobbiamo andare ancora con due ricorrenze e abbiamo una chicca. Il gol più veloce della storia del Barion. E poi dobbiamo parlare degli altri due ricorrenze. Va bene, andiamo. Buongiorno